5 4 3 2 1 vai 40 addosso vai 40 destra 3 per sinistra 4 occhio le gomme fredde 40 sinistra 4 20 sinistra 5 per destra 5 per 5 sinistra 5 scende 20 al cartello attenzione destra 3 questa è la 3 questa 30 sinistra 4 30 rail sinistra 3 la rail destra 3 gira 3 gira in sinistra 3 sale per destra 5 30 sinistra 3 20 attenzione tornante sinistro 10 destra 2 gira 20 destra 4 60 alla casa sinistra 3 alla casa sinistra 3 30 sinistra sinistra 6 per destra 3 20 destra 2 destra 2 questa in sinistra 4 per sinistra 5 in destra 4 per destra 4 50 destra 6 sconnesso tutto chicane ingresso sinistro adesso cominciamo a tenere un po' di più mi sa va meglio sembra di sì 50 vista destra 2 destra 2 20 sinistra 6 per cento di due 20 sinistra 2 sale 20 sinistra 3 30 destra 5 alle gomme diventa 3 70 al muro sinistra 4 30 sinistra 3 per destra 5 20 destra 2 sale 20 destra 6 30 destra 3 sale 3 sale 30 alla casa tornantone sinistro 40 sinistra 6 20 destra 5 20 destra 3 sconnesso 3 sconnesso sinistra 5 in destra 4 20 sinistra 3 attenzione in destra 2 quella delle rotoballe 20 sinistra 5 30 sinistra 5 per destra 3 no 70 vista destra 4 scende 4 scende 30 sinistra 5 40 destra 6 vai 70 destra 6 in sinistra 4 30 sinistra 4 vai 50 su dosso vai in sinistra 4 no 50 scende vai per destra 3 taglia 30 sinistra 4 50 destra 4 30 destra 4 oltre a questo pezzo è quello più vicido 20 destra 5 40 al cartello molta attenzione destra 2 su dosso è quella quella bastarda 20 sinistra 3 30 destra 3 no doppio 3 no doppio 40 sinistra 3 per sinistra 5 sfiora sinistra 20 dosso in destra 3 chiude 2 no scende chiude 2 no scende 20 sinistra 3 3 40 sinistra 5 60 destra 5 taglia questo qua è il pezzo brutto 5 taglia 70 su dosso alla rete attenzione destra 2 quella viscida in sinistra 5 in sinistra 5 sudosso vai in destra 3 no per sinistra 6 40 sfiora sinistra sudosso 60 40 sinistra 3 giù in fondo per destra 6 80 vai al video attenzione sinistra 2 100 vai destra 6 30 destra 5 100 a vista vai sconnessi al masso sinistra 5 per destra 5 diventa 4 lunga diventa 4 lunga in sinistra 6 70 attenzione destra 2 gira 2 gira 60 occhio per questo pezzo sinistra 3 destra 4 scende al muro sinistra 2 sinistra 2 50 al cancello sinistra 4 scende 40 destra 5 30 destra 6 30 destra 5 40 destra 4 destra 4 questa 40 sinistra 2 no 2 no 20 destra 5 50 50 sinistra sudosso 30 destra 5 per destra 4 allo stop destra 2 in bivio destra 2 sì in bivio 100 vista signora rail sinistra 6 lunga in destra 6 50 sinistra 6 in destra 5 no doppio 5 no doppio per sinistra 5 40 attenzione sinistra 2 in destra 3 per sinistra 5 per destra 3 destra 3 40 destra 3 40 sale subito sinistra 2 subito sinistra 2 40 dosso vai 60 sinistra 4 30 destra 6 50 destra 3 no destra 3 no dosso vai 70 sinistra 3 sinistra 3 20 destra 4 30 sinistra 6 per destra 3 30 sinistra 4 vai non vedi 40 sinistra 6 scende vai per destra 5 20 destra 4 no 4 no 30 sinistra 4 sinistra 4 50 50 50 50 alla casetta destra 5 40 sinistra 5 per destra 6 40 destra 6 attenzione in sinistra 3 scende in destra 6 40 destra 5 20 sinistra 4 diventa 3 in destra 4 lunga diventa 3 20 destra 2 no 2 2 in sinistra 2 per destra 3 per sinistra 5 subito destra 2 apre sporca 40 la rail destra 2 gira 30 sinistra 2 per destra 4 no 20 sinistra 2 apre 30 sinistra 6 50 dosso vai 50 sinistra 5 100 sul fine che sudata però è stata bella dai si non si è divertito di più di prima si si